Un 4-0 del Corigliano oggi nei confronti del Sovrato Davoli, siamo con il mister Ciparone del Corigliano. Mister, non era una partita sulla carta difficile per voi? L'avete condotta a termine senza grossi patemi d'animo? Sulla carta le partite sono tutte difficili, poi è chiaro che la parola passa al campo. Siamo stati bravi a saperla interpretare la partita, abbiamo giocato per vincere, quindi siamo andati subito in vantaggio e da là siamo stati bravi a saperla gestire. Poi è chiaro che quando una squadra è seconda in classifica i valori tecnici emergono e poi al secondo tempo abbiamo dilagato. Quindi è un risultato che è frutto di un lavoro fatto quest'estate che oggi ci porta a essere seconda in classifica e a giocarci il campionato fino alla fine. Ecco, era un momento in cui stavate giocando entrambi bene, sia il Sovrato che il Corigliano chiaramente. Poi ogni volta che voi avete affondato avete dato la sensazione che in qualsiasi momento potevate essere pericolosi e così è stato perché in effetti quattro affondi pericolosi, quattro gol, tutti con buone realizzazioni, ottime realizzazioni. No, ne abbiamo sbagliati anche altri, soprattutto nel primo tempo. È chiaro che poi la qualità del reparto avanzato che abbiamo è chiaro che dopo deve per forza di cose fare la differenza. Quindi siamo stati bravi a costruire, siamo stati bravi a realizzare, siamo stati bravi a saperla gestire nel momento in cui il Sovrato ha avuto la rivalsa nella nostra metà campo. Diciamo che penso che sia un risultato meritato alla luce del 4-0, penso sia un risultato meritato perché ho visto buona volontà da parte del Sovrato, però è chiaro che la differenza tecnica si vede. Ora, con voi, secondo in classifica, quando pensa che si può delineare chi è la vincente di questo girone, secondo lei? Ancora mancano nuove partite, ci sono tanti punti a disposizione. Noi siamo condannati a vincere, nel senso che se vogliamo vincere il campionato siamo nella condizione di poterle vincere tutte. Quindi sta a noi determinare il nostro destino. Se siamo bravi, concentrati, attenti tutte le nuove partite restanti, penso che alla fine lo scontro diretto che andremo a fare a Luzzi, che potrebbe dire qualcosa di importante, anche se arriva troppo presto, però potrebbe dire qualcosa di importante. Siamo con il preparatore atletico della squadra del Sovrato Davoli, Garcea. Professore Garcea, non era questa la partita da vincere per il Sovrato Davoli, chiaramente, ma non avete giocato male, purtroppo uscite ancora una volta sconfitti con un pesante risultato, 4-0. Purtroppo è un susseguirsi di risultati un po' pesanti. Diciamo che oggi forse si potevano evitare perché i 4 gol non li meritavamo, però ho visto finalmente una squadra viva, i ragazzi stanno iniziando a giocare fra di loro, a conoscersi meglio, perché voi sapete meglio di me che sono arrivati i giocatori da poco, quindi ancora non si sapevano neanche i ruoli. Sappiamo i ruoli, però non sapevamo ancora come si gestivano in campo. La nota positiva è che la squadra è viva, noi ancora ci chiediamo nel pleato tranquillamente, sicuramente questa è stata forse l'ultima partita pesante che abbiamo fatto, perché vedendo la squadra oggi siamo molto fiduciosi. Fino al primo gol avete giocato azione su azione, sia il Sovrato Davoli che il Corigliano, poi dopo il gol è stato un susseguirsi di azioni pericolose dalla partita di Corigliano e voi che siete un po' spariti in fase realizzativa, non in fase di gioco, perché diciamo che il Sovrato Davoli di oggi onestamente forse è uno dei meglio che ho visto in questa stagione. Se lei ha visto, come vi dice bene, i primi 25 minuti della partita abbiamo avuto noi due azioni inite da gol che purtroppo non sono state fatte, però noi abbiamo purtroppo questo caldo di tensione, vai per l'inesperienza degli andri che abbiamo in campo, vai per l'inesperienza in generale, perché dopo il primo gol noi ovviamente non riusciamo mai ad andare avanti e a riprendere la partita, quindi c'è un po' di sconforto, poi sai meglio di me, ne stai perdendo più di una, quindi la squadra perde anche un po' di fiducia, però diciamo che oggi visto i ragazzi si sono guardati in faccia nello spogliatoio, li ho visti non mollare e questo è importante. Ovviamente la squadra vista oggi contro di noi merita il posto in classifica, c'ha quattro giocatori che hanno fatto categorie superiori, voi sapete meglio, basta solo Sarli che ha fatto la categoria, Violo e altri, quindi per adesso è così, poi da domenica prossima speriamo che ci sia la svolta, non in modo eccellente, una svolta decisiva per la squadra. Un'ultima cosa riguardo l'espulsione del vostro difensore per la trattenuta plateale che ha fatto ai danni di Riolo, secondo lei se la poteva risprimare a quel punto della partita, cambiava, no non cambiava nulla, però avevate un uomo in più per domenica. Per un giocatore penso che lasciar passare l'uomo, fargli fare il tiro per segnare, non penso sia una cosa facile, non sei a mente fredda che ci ragioni, dice potevo evitare e lo lascio passare, a mente calda un difensore che vede un attaccante che sta andando in porto lo ferma in tutti i modi, questa è l'unica giustificazione.